All'indomani dell'incontro senza soluzioni col prefetto di Taranto precipita la situazione al comune di Castellaneta nel Tarantino. I 90 dipendenti senza stipendio da due mesi a seguito dei pignoramenti delle casse comunali oggi sono in sciopero. La CGL Funzione Pubblica ha chiesto alla sezione lavoro del Tribunale di Taranto di emettere un'ingiunzione di pagamento che costringa il comune a pagare gli stipendi. I pignoramenti più consistenti sono quelli dei parenti delle 34 vittime del crollo della palazzina di Via Verdi avvenuto a febbraio del 1985. Dopo 30 anni il comune rischia di dover pagare un risarcimento di 20 milioni di euro. Tre giorni fa il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Taranto si è riservato di decidere sulla richiesta di sblocco di 270 mila euro depositati presso la tesoreria comunale di Castellaneta ma congelati proprio per le richieste di risarcimento e pignoramento. Soldi che basterebbero fra l'altro solo a pagare lo stipendio arretrato di settembre e non quello già maturato di ottobre. I dipendenti dopo il sit-in di lunedì oggi hanno deciso di incrociare le braccia. I legali stanno cercando di arrivare ad una transazione con i parenti delle vittime, alcuni dei quali sono anche dipendenti comunali, per ridurre la montare dei risarcimenti da 19 a 11 milioni di euro. E forse, ricorrendo ad un prestito, il Comune potrebbe riuscire a salvarsi dal distesto finanziario a cui sarebbe condannato se dovesse risarcire tutti i parenti delle vittime senza la compartecipazione del Ministero dell'Interno, così come ha sentenziato la Corte d'Appello di Lecce.